Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, come dal titolo magari può suscitare parecchia curiosità, appunto, fisica dei sistemi planetari. Cosa si intende? Tutte le leggi che ebbe inizio tendenzialmente in realtà già dai greci, ma poi comunque si è concretizzato con le leggi di Keplero, il sistema heliocentrico, fino a poi le nozioni che abbiamo adesso, insomma. E ovviamente adesso io parlerò delle leggi di Keplero, che sono fondamentali, ovviamente le vedremo in un modo non più così tanto banale, ci saranno di mezzo certo tanti concetti puramente nozionistici, affinché uno possa capire, ma ovviamente un minimo di anche conoscenze fisico-matematiche. Questo rientra nel campo della meccanica analitica, che studia il tutto, metterò il link affinché possiate vedere i video precedenti in cui c'è una trattazione un po' matematica per quanto riguarda come arriverà alla formula del momento angolare in un determinato modo e dell'energia totale, su cui mi baserò per poi parlare effettivamente delle leggi di Keplero. Sono parte appunto tutto del corso di meccanica analitica, o meglio, far parte di un libro, poi io sto complementando con diversi testi. Iniziamo subito, quindi a noi ci serve senz'altro capire che il momento angolare che indicherò con L è uguale a R quadro per phi punto. Questo senza dubbio e poi parlare della velocità areolare c che è uguale a dds fratto ddt e poi effettivamente sapendo che delta s, che è lo spazio che percorre il pianeta, quindi se noi abbiamo appunto un'orbita ellittica, prima legge di Keplero, adesso poi ne parleremo bene, questo è il sole. Effettivamente la traiettoria del corpo, ok, allora questo è l'angolo, un angolo o meglio, è, sì sì, l'angolo effettivamente che è phi punto per delta t, ok, che phi punto è la velocità, mi raccomando, questa, effettivamente è tutta questa, ma anche questa è il nostro delta s, quindi lo spazio, diciamo, no? E poi questa sarà la coordinata R di t, il raggio R di t e questo t più delta t, ok? Effettivamente se uno poi andasse a fare un'analisi di questo delta s, che è nient'altro che s di t più delta t meno s di t, torna che questo è nient'altro che un mezzo R quadro phi punto delta t più o piccolo di delta t, ok? Facendo semplicemente lo sviluppo di Taylor al primo ordine, da cui la velocità aerolare, di cui adesso ne parleremo bene, che ne avevo già parlato comunque nel video che vi consiglio di andare a vedere, un mezzo R quadro phi punto, ovvero un mezzo valore assoluto del vettore L, che effettivamente torna. Allora, parliamo quindi un attimo delle leggi di Keplero, effettivamente. Quindi, la prima, che sta alla base dei sistemi solari, è che un pianeta compie delle orbite ellittiche avente il Sole in uno dei fuochi. Effettivamente noi abbiamo che un ellisse è caratterizzato, a livello puramente matematico, da due fuochi, ok? Ok? Cos'hanno detto banale? Il ruolo dei fuochi è che più i fuochi sono distanti, quindi ad esempio in questo caso questi fuochi hanno questa distanza, e l'ellisse in questo modo. Se i fuochi fossero qua, l'ellisse sarebbe molto più schiacciato. Se, in caso limite, i fuochi andassero a coincidere, quindi un unico punto, si forma la circonferenza, ok? Quindi questa è la prima legge di Keplero molto nozionistica, basata sull'osservazione dei pianeti, del moto dei pianeti. Ok? Effettivamente F1 e F2 sono i fuochi, il Sole è in uno di questi, e la traiettoria è questa. Da cui Affelio, punto più lontano tra pianeta e Sole, punto di riferimento, fuoco del pianeta su cui si va ad orbitare, Perielio, il punto più vicino, ok? Ora, cosa succede? La seconda legge di Keplero, che è quella che andremo a vedere un po' più nello specifico anche con i calcoli, parla che il Sole, perché effettivamente il pianeta, descrive aree uguali in tempi uguali. Effettivamente da lì che esce il concetto di Affelio e Perielio, perché effettivamente affinché qua ci sia la stessa area di qua, ci deve essere più una maggiore velocità. Qua ci sarà una velocità senz'altro minore rispetto a questa, quindi V minore di V'. Ok? Quindi più lontano è il pianeta rispetto al Sole, minore sarà la sua velocità, minore sarà l'aria che descrive, ok? Questa combreggiata, più vicino è, maggiore sarà la sua velocità e più l'aria. Però vedete che effettivamente questa porzione qua, essendo più grande, più grossa, diciamo, però è più corta. Qua invece è più sottile, ma senz'altro più lunga, ok? E questo effettivamente ci sta a dire che la velocità areolare è costante. Quindi effettivamente la seconda legge di Keplero dice che dds su delta t, ovvero la velocità areolare, è costante. Ok? Da lì effettivamente abbiamo, nel video precedente, viene indicato il concetto di campo, di campo di potenziale, ok? Questo viene dato da un'analisi del campo centrale, ok? Questo non sarà nient'altro che Udr più m quadro fratto 2r quadro, ok? Quindi queste sono, diciamo, le formule che ci servono. Questo vedremo, appunto, che questo non sarà nient'altro che chiamato potenziale efficace, ok? Un potenziale efficace per risolvere l'energia, scusate, il problema di Keplero, in cui avremo un'energia totale, un'energia totale, e che sarà nient'altro che R punto quadro mezzi, che non è nient'altro che l'energia cinetica, considerando masse pari a 1 per semplificarci le masse, per non averle l'intorno, più Vr, ok? Questa è effettivamente il concetto, appunto, di energia totale. Ovviamente parliamo di un problema unidimensionale. Da lì, integrando questa, mettendo in funzione di R, quindi R punto, che è uguale a 2 meno E, E meno Vdr, ok? Facendo il tutto, non rifaccio i passaggi, otteniamo che FI, nient'altro che l'integrale tra R0 ed R, di m fratto R quadro in Ddr, fratto radice di 2, E meno Vdr, ok? Questo c'è tutto spiegato nel video precedente, in cui ho lasciato il link. Adesso facciamo uno studio dell'orbita, e quindi cominciamo a fissare che il momento angolare è costante. Costante, e quindi diciamo che è facile analizzare la variazione di R nel tempo T. Quindi questo è il tempo, scusatemi, questo è R, e questo è il potenziale V. Se effettivamente uno andasse a fare un'analisi, otteniamo una forma di questo tipo del potenziale. Fissando l'energia E, ad esempio, troveremo che ci sono due punti, questo e questo. Questo effettivamente vedremo che si chiamerà R min, ok? Ed R max, chiamiamola così. Quindi, dicendo che E è l'energia totale, ok? Ogni orbita corrisponde ai dati dell'energia E e del momento angolare, ok? Quindi diciamo che il potenziale Vdr è minore o uguale dell'energia, ok? Sul limite cosa avremmo? Che V sarà uguale ad E, cioè che la velocità R, appunto, è uguale a zero. Tenendo conto di ciò, appunto, della velocità del punto mobile, in generale, che sarà sempre diverso da zero, dato che, appunto, FI punto è diverso da zero, avremmo che L, vettore, momento angolare, diverso da zero. Questa disuguaglianza, qua, determina sul piano una o più regioni che sono delle forme di anello, tendenzialmente, ok? Noi diremo che effettivamente R min è compreso tra R e zero ed R max sarà compreso tra più infinito E e R, ok? Quindi diciamo che potremmo semplicemente scriverla in un modo più compatto. Ok, così, ok? Questa R è il valore che può cambiare, senz'altro. E se si ha questo, effettivamente, il moto è limitato e si avvolge all'interno dell'anello tra le circonferenze di raggio min e di raggio max. Effettivamente noi avremmo delle circonferenze di questo tipo. Noi avremmo questa prima grande circonferenza, quest'altra più piccola, ok? Dove qua avremmo il punto in centro, ok? Questo cosa sarà? Il raggio minimo, raggio min, e quest'altro sarà il raggio max, ok? L'orbita, che adesso farò così, quale sarà? Quest'altra qua. Adesso poi non faccio benissimo i miei disegni. Comunque saranno queste orbite. Questa è l'orbita di un punto in un campo centrale. Questo sarà un angolo, chiamiamolo semplicemente, F grande, ok? Per capire un attimo. L'angolo F varia in modo monotono, ok? Mentre effettivamente R oscilla tra R min ed R max periodicamente, ok? Quindi R, quando è uguale ad R min, si dirà pericentro ed R, quando sarà uguale ad R max, sarà apocentro, ok? Ognuno dei rangi che conduce dal centro dell'appocentro o al pericentro è un'asse di simmetria dell'orbita. Nel caso generale l'orbita non è chiusa, ok? E l'angolo tra i successivi pericentro e apocentro si ottiene avendo una formula F grande che è uguale all'integrale tra R min ed R max. Come abbiamo visto era M fratto R quadro di di R fratto 2 e meno V di R, ok? L'angolo tra i due successivi pericentro è due volte maggiore e quindi l'orbita è chiusa se F è commensurabile a 2π greco ovvero F è uguale a 2π greco M fratto N con M ed N appartenente agli interi. Si può dimostrare che F effettivamente riempie un anello in modo denso cioè che adesso lo faccio in modo più... si ha un'orbita di questo tipo tipo a spirale ok? fino a questa forma. Se R min è uguale ad R max l'energia e il valore del potenziale nel punto di minimo è l'anello del genere in una circonferenza che rappresenta effettivamente anche l'orbita stessa. Questo però è un caso limite ok? Perché effettivamente si va a vedere senz'altro poi ha dei casi molto specifici però raramente diciamo succede. In un prossimo video perché questo è stato molto molto a molto nozionistico, qualitativo in un prossimo video andremo effettivamente a vedere i calcoli il campo centrale, le orbite ok? affinché possiamo risolvere il famoso problema di Keplero analizzando tutte le leggi apprendendo anche le nozioni di eccentricità dell'ellisse e andando a vedere da dove escono certe formule ok? che magari ci vengono insegnate alle scuole superiori. per qualsiasi dubbio o qualsiasi curiosità fatelo pure sapere nei commenti e grazie a tutti.